Allora, la larghezza conta? Dio c***o se mi fa male, porca troia! Ilbia, Carlotta, Aurora, Sharon, Desiree Ok, allora, secondo te 5 cm sono abbastanza? No Perché? Eh, non so Ma perché, cioè Boh, perché È una tua opinione? Cioè, sono pochi Sono pochi, ok Secondo te? Bisogna averlo grosso, se no non si gode Wow, grosso se no non si gode Wow No Cioè non bastano 5 cm? No, no, no Allora, se ce l'avete di 5 cm non basta No, neanche secondo me bastano Wow, perché? Eh, perché è più bello, grosso Oh, stasera vengo a dormire a casa tua, eh? È più bello? Ok, ok, ok Tu hai invece? No No, è basta No, è basta! Se ce l'hai di 5 cm non ti devi avvicinare, basta E se io avessi 13 cm come sarebbe? Eh, anche 13 cm no Perché no? Perché è piccolo È piccolo? È piccolo, 13 cm? No, sì Cos'è che hai detto? 13 cm no! 13 cm no! Cosa hai detto? Cosa hai detto? È un po' piccolo, 13 cm 13 cm no! Quindi saliamo oppure... Dai, andiamo a 17 cm 17 cm come sarebbe? Facciamo così, facciamo così 17 cm Deo, gente vogliosa c'è 20 cm Qua abbiamo... Vanessa Sabrina Ok, Vanessa 5 cm è abbastanza? No, mai Perché? Ma entrano 5 cm? Credo di sì o no? Beh, non credo Secondo me entra Non lo so Perché tu ce l'hai così? Beh, a me non basta Non lo so, detto A me non basta Quindi quanto? Quanto deve essere secondo te? Beh, minimo To, 15 Cioè, non siamo tutti uguali Cioè, sì Sono nero, sì 15 Sì È il minzio Sentiamo lei No, io Concordo con mia sorella Uguale 15 No, aspettai Quindi 5,5 no No, no, no Aspetta Quindi cos'è? 13 non va bene? No Vabbè dai Però non conta solo quello Dai, mettiamola così Esatto C'è gente che c'è la lunga Ma non lo sa usare È gretto, sorella Uh Allora, allora La larghezza Conta Dio mi fa male Porca troia Lungo Lungo ma non largo Aspetta un attimo Damn E il massimo Che voi potete reggere Quanto è? Dai, non lo so Adesso non è che ho provato i casi Infatti Va bene Facciamo Una stima Non so 24 Minchia Mi tocca il pancreas Se vuoi questo posso chiamare mio padre Il mio padre guarda che Damn 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 Ok dai dai Stiamo nella Nella soglia dei 20 Qui abbiamo Quindi Ok Allora Secondo te 5 cm Vanno bene? No Perché no? Perché è piccolo Perché? Piccolo In che senso? Perché non ci entra? Esatto Quindi Quanto deve essere secondo te? 20 17 17 Sì sì Stiamo andando Stiamo andando Ma Perché 20? Perché godi di più Bam È meglio Lungo o largo? Largo Bam Allora Quindi Aspetta 24 Accettabile? Sì 26 Sì 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 Allora Francesca 5 cm Sono abbastanza Mai vista Mai provata Non sono abbastanza Wow Wow Te invece? Penso Penso come lei Da questo punto di vista Pensi come lei? Ok Sì Se 5 Surprise Motherfucker 5 cm Non è abbastanza Allora Quanto deve essere Secondo te? Ma una misura normale Cioè nella media 26? Ma oddio Quella è anche Pabba Possiamo Si può provare Si può provare 26? Ok Aspetta Allora Io vi distorcio Va bene Largo Largo o lungo? Eh Questo è difficile Sì Perché può far male Non si può fare un mix Di entrambi? Sono giapponese Una media in entrambi Una media in entrambi Allora 17 vanno bene Sì van bene 18? Sì 19? Eh mica Sì dai 20? Però io non ho mai Dai 20 in su Comincia a diventare Complicato Ma io ho sentito Che tipo Dipende Da come lo usa Sì Vero? Sì Quello è vero Ok quindi Se ce l'hai così Vabbè E poi non lo sai usare Non conta niente Sì Ok ok Tu cosa ci fai qua? Allora aspetta 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 Qui devo capire la cosa Allora dove tu hai gli occhiari Perché Quindi se io avessi 5 centimetri Però Però Ho i 5 centimetri Però Cioè So usarlo bene Riesco a far godere Come la metteresti? Non lo so Non l'ho mai provata Non te lo so dire Da questo punto di vista Non lo so Sì ma Immaginazione 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 Ce ne vuole parecchie L'immaginazione Non ha limite Lo sai Sì però Se qualcuno Dovesse vederlo Ce n'ha un limite No no Qua non ho capito Allora Le donne con due dite Riescono a godere Con 5 centimetri No Ci sono due tipi Di godimento Per le donne Quella dal clitoride E quella di penetrazione Una donna che si sa Masturbare Bene Lo fa tramite clitoride Hai un certo stile Mi piaci Di solito Oh guarda che informazione Abbiamo l'esperta qua È esperta nel campo Qua abbiamo Marta Martina Ok MM Marta Dimmi Vanno bene 5 centimetri Ma come tacco Sì No Intendo 5 5 centimetri Sono pochi Sono pochi Perché No oggettivamente No oggettivamente Perché non lo senti neanche 5 centimetri quant'è poi così 5 centimetri così Come la sigaretta tipo più o meno No Non vanno bene Ok ok Quindi Quanto deve essere secondo te? Vabbè la media italiana è sui 16 E secondo me è una buona media E secondo me è una buona media Ma allora vabbè le preferenze sono altre però mi va bene Cioè mi basta che non sia subito ecco Cioè che non esploda di gioia subito Ah Che dure di gioia subito Ok Allora Meglio lungo o largo? Largo Lungo Ok Ehi Ok quindi 24 vanno bene no? 24 vanno benissimo Vanno benissimo Ok 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 Allora Cioè qua dicono Cioè dicono in generale Che Meglio saperlo usarlo Che avercelo lungo Che ne pensi? Cioè Allora dipende sempre dai casi Cioè Nel senso Se ce l'hai appunto di 5 centimetri E lo sai usare Ma comunque Cioè tu non lo senti Perché è di 5 centimetri Però se ce l'hai Onesto E Lo sai pure usare Anche lì ci metto la firma Anche io Meglio per te Yeah